La nostra troupe di FanoTV oggi ha fatto di nuovo tappa al centro trasfusionale della Santa Croce per promuovere la donazione di sangue. E lo faremo insieme ai tanti volontari alla grande squadra dell'Avis che sta organizzando tante iniziative pro dono. E proprio all'ingresso del centro trasfusionale c'è Maurizio Vizzini che questa mattina accoglie tutti i donatori. Buongiorno. Buongiorno Simona, buongiorno a voi altri, buongiorno a chi viene e a chi verrà. Da quanto tempo fai parte del gruppo dell'Avis? Avis che dono dal 1978, ormai siamo già a 40 anni. Feci la donazione al 7 dicembre del 78 a Milano. Ti ricordi perfettamente? Era Sant'Ambrogio. Come era andata questa prima donazione e come è riempunto a conoscenza di questo mondo? C'era il gruppo donatori dove lavoravo. Nell'azienda dove lavoravo c'era il gruppo donatori. Eravamo un gruppo ben nutrito. E così la donazione fu, diciamo, si organizzò una giornata di donazione proprio per festeggiare Sant'Ambrogio. Ho fatto questa donazione e ricordo bene che sto stanzone dove erano tutti quanti messi lì, distesi, che facciano donazione diretta. Non come viene fatta oggi, che ci sono tutti i controlli. Era un'altra epoca anche perché le patologie erano diverse, le conoscenze erano diverse. Però era bello star lì. Che premio ti avevano dato poi alla fine? Perché non era una bistecca. Se posso dirlo era un buffet. Un buffet di pane e salame, pane e mortadella e una damigianata di vino rosso. Indimenticabile. No, no, quello, quello, ma lo dico anche così scherzando con gli infermieri, quando facciano le riunioni. Dico sempre il buffet andrebbe fatto come era all'epoca. Era un momento anche conviviale perché dopo la donazione si restava ancora lì perché facevi il panino, facevi due chiacchiere. Era bello. E ancora ad oggi continui a donarti agli altri, continui anche ad accogliere tutti i volontari che vengono qua e a far parte di questo mondo. Faccio parte del gruppo del punto Avis dal 2013, se non ricordo male. Tanto ormai l'età c'è, quindi posso anche sbagliare con l'età. Però ecco, ormai sono nel turno. È interessante, è bello anche perché conosci le persone, parli, vedi, senti anche. È un modo per stare in contatto con le persone e fare anche promozione indirettamente. Maurizio, anche tu sei uno sportivo? Sì, mi è interesso di triathlon. Pedalata da Fano a Pesaro, nuotatina e corsa veloce a farsi un panino col prosciutto crudo e un bicchiere di vino. E poi si riparte. E poi si riparte, perché il viaggio è lungo, il donatore deve essere in forma. Buon lavoro. Grazie, Simona. Marco, allora una estate dedicata allo sport questa? Continua questa bellissima estate dedicata al mondo dello sport. La donazione è bella quando lo sport risponde ancora di più in un modo fantastico. Quest'estate è veramente ricca di partecipazioni da tante società e quest'oggi abbiamo i nostri amici ciclisti della Centina Urolese dei Panzer, di questo bellissimo quartiere, che sa rispondere sempre in un modo unico. Sono tantissimi che si sono avvicinati in questi anni alla donazione ad Avis Fano. L'anno scorso hanno fatto questo primo bel evento portando tante nuove donatrici e tanti nuovi donatori e quest'oggi sono veramente fantastici con queste bellissime polo nuovissime e da come mi ha raccontato Rodolfo, nate per un'iniziativa carinissima. Poi la scopriremo. Quando l'Avis dice vivi il lato sano dello sport, voi ne siete l'esempio? Sì, penso che la società, lo sport rappresenti il meglio che ci possa essere nella vita. Io in particolar modo, da tanto che dono sangue, ma cerchiamo di coinvolgere le più persone possibili perché penso che sia un gesto comunque positivo e da trasmettere a tutti i giovani, specialmente i giovani che possono cominciare a donare. Quindi come iniziative, come partecipazione, veniamo volentieri quando veniamo invitati, a parte che poi cerchiamo sempre di incentivare a donare sangue perché c'è bisogno insomma. C'è sempre bisogno, è vero. Marco anticipava di questa maglietta che è recente, fresca fresca. Sì, diciamo che fa parte di un'iniziativa che la centenarolese ha fatto. Diciamo che abbiamo l'anno scorso un gruppo di, siccome abbiamo un socio che è londinese che vive metà in Inghilterra e metà a Cartoceto, che ha preso casa a Cartoceto, abbiamo ospitato l'anno scorso una decina di ciclisti inglesi e quest'anno abbiamo ricambiato la visita, siamo andati in quattro coppie, siamo stati ospiti a Londra e quindi per l'iniziativa abbiamo cognato queste maglie che rappresentano l'Italia, hanno il simbolo dei Panzer e quindi che è la società di Centinarola che noi rappresentiamo e abbiamo donato a chi ci ha ospitato una maglietta, il simbolo dell'Italia, abbiamo portato, tenuto alto i colori dell'Italia a Londra. Bellissimo. E questa mattina insomma arriveranno tanti altri sportivi. Tantissimi appunto gli sportivi e da giugno che questo bellissimo corridoio è calpestato da sportive e da sportivi. Saranno anche oggi tante le società sportive, saranno quasi 40 le donazioni che gli sportivi dedicheranno a questo bellissimo Donor Day. È un Donor Day ricco perché è un Donor Day ricco di gioia, di sport e di sorrisi. Dottoressa si può notare una sofferenza di alcuni gruppi sanguigni, insomma l'estate tornano all'emergenza. Sì, anche quest'anno come sempre un pochino in estate abbiamo una carenza di sangue e in particolar modo di alcuni gruppi sanguigni. I gruppi sanguigni di cui noi abbiamo maggiormente bisogno sono il gruppo A, sia negativo che positivo, e il gruppo 0, specialmente lo 0 negativo. E quindi invitiamo tutti i donatori e soprattutto i donatori che sanno di avere questi gruppi sanguigni e di donare. L'invito che noi facciamo è quello di donare prima di partire per le vacanze. Quindi venite a donare e poi andate in vacanza contenti perché avete fatto anche un bel gesto. Ci raccomandiamo di questa cosa. Al centro trasfusionale c'è tanto lavoro dietro, a partire dalla prevenzione. Esatto. Allora Avis sta promuovendo delle giornate dei Donor Day dedicati allo sport in cui proprio si invitano gli sportivi a venire a donare. E questo fatto si sposa molto bene con un progetto regionale che promuove la salute, la prevenzione. Il progetto si chiama Gente di Cuore. È un progetto che ha come scopo, come ho già detto, la prevenzione, il miglioramento degli stili di vita e la promozione di uno stile di vita sano. Quindi vengono fatti dei questionari ai donatori dove vengono poste delle domande che riguardano lo stile di vita, il consumo di frutta e verdura, la frequenza con cui viene svolta attività fisica, il fumo, se il donatore fuma o meno. Quando vediamo che ci sono delle domande un po' così e così, facciamo un colloquio in più con il donatore e lo invitiamo ad adottare uno stile di vita più sano. In particolare l'abolizione del fumo, la promozione dell'attività fisica. Marco, altro orario? Altre società che ci stanno raggiungendo? Tantissime appunto le società che ci stanno raggiungendo, tanti ciclisti questa mattina e non potevano mancare i podisti, i corridori. Questo bellissimo gruppo che l'atletica Avis Fano Pesaro ha creato grazie al professor Ceresani. Massimo è diventato veramente un padre reputativo per questi ragazzi e con Massimo ci conosciamo io da quando ero bambino. Quindi abbiamo vissuto questo bellissimo impianto che noi abbiamo a Fano, nonostante che sia ormai datato la nostra pista di atletica intitolata al professor Zengarini, che è stato tra l'altro anche professore di mio suocero. Quindi c'è anche un aspetto affettivo in questo. È un impianto bellissimo dove tantissimi atleti lo frequentano per dedicare le proprie ore di attività sportiva, perché lo sport è oltre che mandare un bellissimo messaggio da educazione, da rispetto delle regole e non soltanto nella vittoria ma anche nella sconfitta. Il professor Ceresani sta crescendo e ha coinvolto tantissime famiglie, tantissimi genitori. Anche oggi appunto, dato che i bambini non possono donare, sono venuti i genitori per compiere questo bellissimo gesto della donazione e della prova di donità, perché noi vogliamo mandare sempre questo bel messaggio. Abbiamo bisogno di tante donazioni ed è verissimo. E quest'estate appunto gli sportivi come quest'oggi ci stanno dando delle soddisfazioni incredibili per non sentire più questa parola che è la carenza. Ma ancora di più abbiamo bisogno di tanti nuovi donatrici, tanti nuovi donatori, perché i motivi di sospensione sono tantissimi. Eppure essendo 2.500 donatori abbiamo centinaia di sospesi. Quindi grazie ai genitori che quest'oggi si sono avvicinati al mondo dell'Avis, al mondo della donazione e grazie all'Atletica Avis Fano. Ceresani, ecco, il vostro obiettivo è proprio quello di svolgere uno stile di vita sano. Tutti gli effetti. Sì, ma tornando anche al fatto della donazione, sulla mia pelle io dico che sono stato donatore e a un certo punto mi hanno detto non sei più idoneo, hanno usato idoneo, non hanno detto vecchio. Allora io mi sono preso la rivincita e ho ritrovato la gioventù trasmettendola ai ragazzi, fra l'altro. Cerca di trasmettere ai più giovani questo messaggio importante. Direi che in quell'ambiente che ha accennato Marco, che è la pista Zengarini, è un alveo non solo per chi pratica atletica, è un punto di riferimento come il circuito Marconi, un punto di riferimento tra i fruiti della città. Perché lì vediamo società sportive variegate, comuni cittadini, genitori che accompagnano i figli. E quindi è un punto di aggregazione vero della città. Quindi come dicevo, tra l'altro gli sportivi devono svolgere anche uno stile di vita sano, per cui possono donare, non tutti, ovviamente bisogna sempre fare tutti gli esami per l'idoneità, però il messaggio che voi lanciate è bello forte. L'approccio all'atletica è valido, nel senso che chi viene da atletica fisicamente si forma e si forma anche per attività sportive alternative, qualora un domani uno decida di cambiare anche sport. Viceversa, spesso noto che non succede dal lato tecnico. Chi mi arriva da altre discipline sportive, devo ricostruirlo tutto fisicamente. E venerdì 3 agosto ci sarà un altro appuntamento importante? Sì, venerdì 3 agosto riprendiamo in pratica una tradizione che era stata soppiantata, che è quella di ritrovarsi, almeno d'estate, tutti atleti e genitori in una conviviale a cena, a bordo pista, a bordo pista di sera, per cui è un'ulteriore occasione per favorire l'associazionismo e l'amicizia che ancora non ce l'ha. Marco, dobbiamo parlare anche di uno striscione. Sì, il giorno 3 agosto, proprio per questo bellissimo evento che l'Atletica Avis farà con tutti i loro associati, con tutte le famiglie, perché saranno tantissimi i bambini, le bambine e i ragazzi a partecipare, che rimperanno di gioia, di sorrisi e di chiasso la pista atletica, consegneremo un altro striscione di Vivi Lato Sano dello Sport, che sarà appeso poi, attaccato nel recinto, perché ha una visibilità enorme, perché oltre appunto allo Zengarini abbiamo il circuito Marconi, prospicente, ed è un punto fantastico perché sono tantissimi i fanesi a frequentarlo quotidianamente e a dedicare del proprio tempo al lato sano che è lo sport. E quindi, viva lo sport e viva la donazione! E ci sono tanti ciclisti questa mattina al Centro Trasfusionale, anche la vostra società è presente, Società Ciclistica Fanese. Lei non è un donatore, ma è venuto a sopportare i suoi compagni. Esatto, io non posso purtroppo donare, però supporto volentieri queste iniziative. Anzi, volevo ricordare che con Avis abbiamo un bellissimo rapporto, perché ogni volta che facciamo una manifestazione, noi ormai facciamo un La Mediofondo Città della Fortuna da più di dieci anni e tutti gli anni abbiamo sempre invitato Avis con il suo arco, con i suoi striscioni per promuovere queste belle iniziative. accompagno due nostri atleti che sono donatori e hanno tutti e due superato le oltre 100 donazioni, quindi non sono alle prime e mi fa molto piacere essere qua questa mattina. Insomma, tante donazioni significa che qualche anno ormai fate parte dell'Avis. Avevo 18 anni quando ho cominciato a donare. Subito, ma Gioren è venuto a donare sana. L'ha trasmesso a mio padre che lui era donatore, io adesso l'ho trasmesso a mio figlio che lui è donatore. Bene, insomma anche un ricambio generazionale che è fondamentale per il centro trasfusionale. Oggi non siete venuti in bicicletta perché dopo la donazione diventa un attimino, è meglio stare un po' a riposo. C'è stato vietato proprio di fare attività sportiva nella giornata di oggi perché abbiamo già donato. E quindi niente, anch'io ho cominciato quando avevo 20 anni, ho raggiunto, ho superato le 100 donazioni, ho trasmesso anch'io questo valore importante ai miei figli, anche i miei figli sono donatori. E sono soddisfatto di questo qui. E ringraziamo sempre Avis Fano perché ci supporta, come diceva prima Gianfranco, nelle nostre attività, nella nostra mediofondo che oramai è arrivata al decimo anno di esecuzione, che la facciamo da dieci anni. E Avis Fano è stata sempre presente nella nostra organizzazione assieme a noi e ci ha sempre supportato. Un saluto anche a tutti gli altri ciclisti dall'Avis di Fano, dal centro trasfusionale. Ciao! Quali saranno le iniziative previste per questo fine settimana organizzate dall'Avis? Allora, come possiamo vedere da questa grande locandina che è stata fissa alla porta, l'evento principale, che è anche quello più importante di questa estate, è appunto la 24 ore delle beach volley. Si terrà da venerdì 27 dalle 18 per 24 ore, quindi si concluderà alle 18 del giorno dopo. E appunto ci saranno ogni ora due squadre da due giocatori che si affronteranno ogni ora per 24 ore consecutive. Quindi insomma la bellezza di questo evento è che è una 24 ore non stop nel vero senso della parola. Nella giornata di sabato invece? La giornata di sabato, allora, come dicevo, le partite si concluderanno alle ore 18, come avevo detto prima, e poi a seguire ci sarà, per chi vuole, la cena e il silent party. La cena si terrà a Bella Vista alle ore 8 del Lido. E subito dopo, sempre per chi vuole, ci sarà il silent party alla cavea del Lido. Per concludere un evento che ha scopo benefico innanzitutto, però i giovani sono invitati a partecipare anche perché è un evento in cui ci si diverte. E comunque è sempre volto a sensibilizzare anche al tema della donazione, che purtroppo sappiamo che in questo periodo siamo un po' in carenza di donazioni e di sacche di sangue, quindi è sempre importante organizzare eventi del genere anche per sensibilizzare soprattutto i più giovani. A chi verrà devoluto il ricavato? Il ricavato sarà devoluto alle associazioni del nostro territorio, quindi in particolare Casa Penelope e Itaca. E dove è possibile reperire informazioni? Per qualsiasi informazione o dubbi potete contattare Avis Giovani su Facebook oppure su Instagram oppure potete chiamare i numeri che sono scritti nel tabellone. I referenti sono Marco, Martina e Alessandro. Matteo, oggi è anche il tuo compleanno e hai pensato di venire qua e fare un regalo agli altri in realtà. Esatto, sì, praticamente oggi è il mio compleanno e ormai da tre anni vengo sempre a fare la donazione il giorno del mio compleanno in modo che è un regalo sia per me che comunque per chi gli serve, diciamo un regalo anche per gli altri. Mi sembra il miglior modo di festeggiare il compleanno, come ci può essere insomma. Complimenti davvero. Posso chiederti come hai conosciuto questo mondo dell'Avis? Diciamo che l'ho conosciuto tramite il ragazzo di mia mamma che praticamente anche lui era un donatore e di cui anche il mio bisnonno era un donatore sempre Avis, quindi diciamo di famiglia come cosa. E da lì mi sono sentito anche io comunque in dovere avere anche il piacere di dare la mano al prossimo insomma. Ci fa veramente piacere, questo ti fa onore e dunque buon compleanno da parte di tutto l'Avis e di tutta la redazione e non solo, di Fanu TV. Grazie mille, grazie mille. Buonasera a tutti, siamo lieti anche noi come OS Acli e Circolo Acli Cucurano ad essere presenti a questa meritevole iniziativa dell'Avis Fano. È un'iniziativa senz'altro meritevole e noi come Circolo partecipiamo volentieri in quanto anche Avis è sempre presente alle nostre iniziative, quindi non potevamo mancare a questo evento. Approfitto per ricordare una delle nostre prossime iniziative che sono quella della Cucurano che si terrà il prossimo 7 ottobre. È un contenitore dove avremo sia la classica corsa per i bambini con tutta una serie di giochi ludici ma anche l'ottavo Memorial Giuseppe Burrai, giunto appunto a questa ottava edizione e quest'anno è una novità di questo Memorial che è una corsa podistica appunto ma è aperta a tutti e quindi non agonistica, quindi tutti si potranno cimentare in questa prova di 6 chilometri, quindi cimentare sia con se stessi ma anche con gli altri. Quindi corsa podistica, corsa podistica bambini, camminata, siete tutti invitati. Grazie. Buonasera a tutti, sono Enrico Nicolelli dell'Olimpia Ginnastica di Cucurano e anche noi aderiamo alla giornata dell'Avis Vivi il Lato Sano dello Sport e da diversi anni partecipiamo a queste iniziative perché crediamo fortemente nella donazione e soprattutto nello scambio e nel rapporto con Avis Fano. Le nostre attività sono attività di ginnastica, ginnastica ritmica e ginnastica artistica e in quest'estate chi vuole venire a vedere le nostre esibizioni può farlo il 28 luglio nel Parco di Cucurano all'interno della Festa della Birra e il giovedì 9 agosto al Parco di Rosciano all'interno della Festa di Rosciano insieme alla Festa Country. Faremo due esibizioni di ginnastica appunto con le nostre ragazze e poi riprenderemo la nostra attività sportiva alla fine di settembre, l'ultima settimana di settembre nelle nostre palestre, ovvero quelle di Cucurano, Lucrezia, Saltara e Piagge dove accoglieremo tutte le bambine che vorranno iscriversi ai nostri corsi dai quattro anni in su. Ringraziamo di nuovo Avis per questa opportunità e per questa bella giornata e voglio incentivare tutti gli iscritti della nostra società, soprattutto i genitori, a recarsi ai centri Avis e a iscriversi e diventare donatori perché è sicuramente un bel gesto. Intanto grazie, grazie di essere venuti perché queste manifestazioni a noi servono tantissimo. Il bisogno di sangue purtroppo è continuo, non esiste un momento dove si può dire ecco ci siamo riusciti, ci basta, è sufficiente. Questo purtroppo non è possibile perché tutti i giorni ci sono pazienti che hanno bisogno, il sangue ha una scadenza, la quantità è limitata e bisogna cercare tutti i giorni di reperirlo e particolarmente d'estate c'è bisogno, ci sono alcuni gruppi che sono assolutamente carenti, in questo caso abbiamo da qualche settimana una carenza di gruppo A, lo zero fortunatamente reggiamo, quindi chi è di gruppo A e lo sa, se viene a donare fa un atto di generosità veramente grosso perché adesso c'è bisogno. Grazie nel venire anche quelle persone che non hanno mai donato, che però sono in buone condizioni di salute, se possono venire soprattutto nei mesi estivi dove le ferie, dove i bisogni anche delle persone, molti hanno problemi pressori, hanno problemi di diciamo anche di lavoro, le ferie, mettiamo appunto le ferie in primo luogo, ecco in questi giorni c'è veramente bisogno, quindi chiunque voglia venire noi siamo qui, tutte le mattine ma certe volte appunto anche il pomeriggio nonostante la nostra gestione dei pazienti, basta chiedere all'Avis e vi verrà detto quali sono le modalità. Grazie di tutto. Marco i Donor Day non finiscono qua naturalmente? No non finiscono qua, questa appunto è un'estate talmente bella e talmente lunga per noi di Avis, è partita sin da giugno, con un giugno fantastico, un luglio favoloso, devo dire che siamo molto contenti perché le donazioni rispetto all'anno scorso stanno aumentando così come stanno aumentando i donatori e purtroppo, e dobbiamo sottolinearlo, siamo continuamente in emergenza perché le richieste di sangue continuano ad essere tantissime e i trasfusionali non riescono a rispondere in modo esaustivo alle tante richieste dovute anche ai numerosi incidenti e sappiamo quante persone sono state colpite anche in queste settimane. Quindi noi siamo ben contenti di continuare a mandare questo bellissimo messaggio durante l'estate della donazione, sono stati tantissimi Donor Day, intere giornate dedicate alla donazione come quest'oggi, 40 donatori ifanesi si sono avvicinati alla donazione quest'oggi, hanno donato, hanno dedicato del proprio tempo con questo bellissimo gesto della cittadinanza attiva, della partecipazione e della voglia di dedicare del proprio tempo e in questo caso anche parte del proprio corpo alla solidarietà e al far sì che si possa avere una società sempre migliore e noi questo è veramente uno scopo importantissimo per noi di Avis, far sì che la cittadinanza risponda sempre più e quindi invitiamo sempre i nostri concittadini ad avvicinarsi all'Avis, al trasfusionale, è un mondo fantastico dove le dottoresse e le infermiere abbracciano con tanto affetto e con tanta semplicità le donatrici e donatori. L'abbiamo provato tutti noi la prima volta nella nostra pelle e anche oggi ci sono delle prime donazioni di giovanissimi quindi di nati anche nel 2000 ed è questo che ci rende ancora più gioiosi e sapere che con il mondo del volontariato che è fatto comunque sia di fatica e a noi le strade in salita piacciono tantissimo. Avremo prestissimo questi due giorni dedicati al mondo dello sport. L'Avis regionale ci ha incaricato forse perché vede in Fano una delle città che veramente sa rispondere pienamente e quindi abbiamo tanta fiducia nei nostri concittadini e ci ha affidato questo torneo giovanile. Abbiamo ancora due donor day nel mese di agosto quindi fanesi avvicinatevi all'Avis perché il primo e il 30 agosto saranno giornate interamente dedicate al mondo delle donazioni quindi venite a conoscere il mondo della donazione, dell'aggregazione e di far sì che possiamo rendere la nostra città sempre migliore, sempre attiva perché ne abbiamo tanto bisogno di sangue, la parola emergenza non deve più esistere. Abbiamo bisogno di ognuno di voi. Abbiamo bisogno di ognuno di voi.